Per evitare l'influenza bisogna vaccinarsi. Il vaccino rappresenta l'unico presidio terapeutico realmente valido per evitare che questa malattia diffonda e quindi che uno sia male. Bisogna vaccinarsi perché il vaccino dà una immunità e purtroppo il virus dell'influenza, che è un virus capriccioso, cambia ogni anno e quindi purtroppo ogni anno bisogna vaccinarsi. Le categorie a rischio sono tutti gli ultra 65 anni e più i malati cronici, però negli Stati Uniti il vaccino è consigliato a tutti i soggetti che hanno più di sei mesi, quindi diciamo che tutti quelli che vogliono evitare di prendersi una malattia influenza, che è una malattia che si presenta con febbre molto alta, dai 38 in su, che dura dai 5 ai 7 giorni, che presenta tosse e che purtroppo può dare delle complicanze talvolta mortali, visto che negli ultimi 7 anni in Puglia abbiamo quasi 400 morti da influenza, l'unico rimedio rimane, come dicevo, il vaccino. Ogni anno il cambio di stagione del via l'influenza che costringe milioni di persone a letto. In Italia la sua massima diffusione è tra dicembre e febbraio e se non curata come si deve, potrebbe recare seri danni alla salute in età adulta. L'influenza può essere molto fastidiosa, ma se gestita con ragionevolezza, difficilmente comporta complicanze severe in persone con difese immunitarie adeguate e in buono stato di salute generale. Dopo i 60-65 anni, tuttavia, la situazione cambia. Con l'avanzare dell'età, l'organismo diventa progressivamente meno efficiente nel contrastare i virus influenzali, che hanno quindi maggiori possibilità di moltiplicarsi e fare danni. Di tutto questo si è parlato a Bari nel corso dell'incontro Influenza, Rischi e Prevenzione nell'Anziano, organizzato dall'Anteas Bari, con Antonio Cavazzoni, presidente dell'Anteas Bari, Filippo Anelli, della FIMG, Sabino Carbotta, dell'Università degli Studi di Roma, il segretario generale FNP CISR Bari, Domenico Gliantonio, il segretario generale della CISR Bari, Giuseppe Boccuzzi, e Giuseppe Paratella, presidente Federfarma Bari. Io penso che come associazione di volontariato l'Anteas ha il compito di tutelare la popolazione anziana. Certamente io non sono un medico e non entrerò nel merito tecnico e professionale, però questa è una delle iniziative che come l'Anteas Bari stiamo programmando sul territorio. Dovremmo fare altre iniziative sull'invecchiamento attivo, sulla nutrizione della gente, perché comunque io voglio affermare un concetto, che gli anziani sono una risorsa per il Paese, sono una risorsa per lo Stato sociale, aiutano le famiglie, quindi in questa logica dobbiamo tentare di dare quanto maggiori consigli è possibile. In questo contesto si inserisce questa nostra iniziativa di convegno per informare i nostri anziani ma anche i cittadini comuni rispetto a questo picco di influenza che sta per arrivare, o già mi pare che è arrivata, e quindi rispetto a questo ci sono fior di professori che oggi daranno comunicazione come attrezzarci per prevenire questa ondata che certamente non è funzionale alla salute.